L'ondata di contagi ed eccessi non è ancora terminata, ma i numeri provinciali e regionali sono sufficienti per confronti e analisi. E i dati, a 40 giorni dall'avvio dell'epidemia, permettono di delineare i contorni del rapporto di contagi ed eccessi della nostra provincia in confronto con le altre maggiormente colpite, dell'Emilia-Romagna e quelle lombarde. Le infezioni da coronavirus accertate a Piacenza e provincia sono ad oggi 2.765, vale a dire il 18% degli oltre 15.000 casi dell'intera regione Emilia-Romagna, ma l'incidenza dei decessi piacentini sul totale regionale è quasi doppia, il 32,4%. I morti da covid-19 in Emilia-Romagna sono infatti al momento 1.811, di questi, 587, sono di cittadini di Piacenza e provincia. Detto così è già un dato impressionante, che addirittura sembra peggiorare se si effettua un altro semplice conteggio aritmetico. Dall'11 marzo, giorno in cui il grafico dei decessi ha avuto la prima impennata, al 2 aprile, i morti a Piacenza sono stati 547, vale a dire poco meno di 24 al giorno, con una media dunque di 1 all'ora. Tutto ciò non perché nel nostro territorio i pazienti siano curati peggio che altrove, anzi, essendo una linea di confine, l'attenzione è stata da subito altissima, ma a causa dei pochi tamponi effettuati all'inizio e dei tempi lunghi di attesa. C'è poi un dato che mette Piacenza al secondo posto, in una classifica poco invidiabile, quella dell'incidenza dei contagi nelle province italiane. È il frutto dell'incrocio tra il numero degli infetti e il totale della popolazione. Nel Piacentino questo dato è dello 0,963% e, a detta degli esperti, è largamente sottostimato, seconda solo a Cremona, dove il rapporto è dell'1,107%. L'analisi è effettuata dal sito del Sole 24 Ore e pubblicata in una tabella che evidenzia i dati di contagio di tutte le province italiane. Piacenza è seguita a ruota da Lodi, con lo 0,951%, che fino a ieri occupava la seconda posizione. Seguono Bergamo 0,823%, Brescia 0,692% e Reggio Emilia 0,501%.